Noi siamo uno strumento suo e dell'Italia per risolvere una questione che è ancora più grave, e cioè la crisi economica nella quale siamo da tanto tempo. È inimmaginabile che l'Italia venga fuori dalla condizione nella quale si trova senza che il mezzogiorno cammini almeno ad una velocità media. Se confronto doveva essere, lo è stato fin troppo. La direzione nazionale del PD, convocata a Roma sulla questione del mezzogiorno, ha messo in evidenza la frattura tra Matteo Renzi e i governatori del Sud, Michele Emiliano e Vincenzo De Luca in prima fila, con il Premier che ribadisce le sue opinioni sui piagnistei che vengono da Sud. Questa retorica del Sud abbandonato è autoassolutoria per una parte della classe dirigente del mezzogiorno. So che su questo si può iniziare a discutere e avere opinioni diverse, ma non c'è ombra di dubbio che l'autoassoluzione che deriva dal fatto ci hanno abbandonato è un elemento che concorre alla crisi del mezzogiorno e del Sud. Posizioni che Emiliano non gradisce e respinge al mittente. Nessuno di noi al Sud ha mai pianto se non purtroppo ai funerali. Ai funerali di qualche mio collega magistrato, ai funerali di giornalisti, ai funerali di imprenditori. Lì il Sud piange. Ma al di là di questi episodi tragici, al Sud si combatte e non si molla mai. Ovviamente lo dobbiamo fare spesso anche contro qualcuno che è parte di noi stessi. Il governatore pugliese però non chiude a Renzi, sottolineando come positivo il fatto che il PD torni a occuparsi del Sud. Noi abbiamo delle tappe nelle quali ci dobbiamo incontrare. E il risultato politico straordinario di questo incontro è che, di nuovo, il PD parla di questione meridionale e soprattutto ha capito che senza risolvere il divario di sviluppo tra Nord e Sud è impossibile che l'Italia ricominci a correre normalmente in economia. Questa intuizione non era scontata e oggi è stata finalmente metabolizzata anche dalla nuova segreteria del PD e devo dire anche dal Presidente del Consiglio. Questa è una buona notizia.